Vediamo il conteggio di drinking tonight e il restate finale. Allora, conteggio del primo, secondo, terzo muro, poi arriviamo al quarto e vi mostro il restate. Allora, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, giro, quattro, sette e otto. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto, un e, tappa, 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 un tre e quattro, cinque, set, 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 Dopo 16 passi, ricominceremo da capo, saremo rivolti alle ore 18, vediamo come votate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, da qui, attenzione, non vado avanti, ma ricomincio da capo. Quindi questo stop, anzi questo step, non mi lascio il peso perché devo ricominciare con il rock step. Fate attenzione, quindi quarto numero, quando arrivate alle ore 15, ricordate che dopo due ottave alle ore 16 ricomincerete, dopo aver fatto appunto la parte del passo, giro il primo calcio e cominciate. Andrò avanti a ballare, quindi da qui sono finita dalle ore 15, torno alle ore 18, il ballo gira in senso anti-orario, quindi vorrà dire che avremo dal quarto muro, quinto, sesto, settimo, tavolo, amore, decimo, arriviamo all'ultimo, vi faccio vedere il finale. L'ultimo numero uno sarà quello di ore 12, indicesimo, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, un altro per uno stompi davanti con il piede sinistro, questo è il finale. La coreografia è molto carina, è bella ricca di passi diversi, non è monotona, la vediamo per ballato. Bene, grazie.